a Giardinello, di attività recreative, cosa è stato fatto di attività recreative a Giardinello? Quale iniziativa l'amministrazione ha intrapreso? L'estate giardinellese, dobbiamo ringraziare la prologo di Giardinello col suo presidente Rosario Polizzi che ha riempito l'estate a Giardinello con diverse manifestazioni, abbiamo visto la grande affluenza di ragazze e di bambini in tutti i giorni che si recavano all'anfitriato e quindi grazie alla prologo, ma come attività amministrativa che cosa è stato fatto per i giovani? Pensiamo che è stato fatto poco e niente. Vorrei passare ad un altro argomento che è l'argomento LSU, apprendiamo da una nota, che qua ci sono due LSU che scrivono, che l'ufficio economico finanziario, il responsabile dell'ufficio economico finanziario in ragione capo aveva fatto una richiesta all'amministrazione di aumentare da 18 a 24 ore a 2 LSU le ore. L'amministrazione non lo ha fatto, questa richiesta da parte del capo ufficio era fatta visto la mora di lavoro che c'è all'interno dell'ufficio economico finanziario che noi lo riteniamo importantissimo perché è un ufficio che lavora su tributi, su quello che il comune dovrebbe introitare, quindi bisognerebbe secondo noi il punto di vista, lei l'altro giorno con la sua giunta ha approvato una delibera dove ha prolungato da 18 a 24 i due asiliari a traffico che noi condividiamo perché da diversi mesi in consiglio comunale avevamo presentato questo tipo di richiesta visto che mancava la sorveglianza all'entrata e all'uscita delle scuole, quindi bisognava mettere un asiliare a traffico visto che ci creavano degli ingorchi e quindi era pericoloso per i nostri bambini, quindi noi abbiamo più volte sollecitato questa cosa, però visto l'eseguità del bilancio caro sindaco e visto la sua scelta di non aumentare e mortificare gli LSU che lavorano all'ufficio economico finanziario, secondo il nostro punto di vista non doveva nemmeno aumentare le ore a un LSU che è incaricata all'ufficio affari generale, un LSU a molto lei vicino, sappiamo tutti benissimo perché lei ha mantenuto le ore a questo LSU, con tutto il rispetto della ragazza che è una ragazza in gambe intelligente come lo sono tutti, perché il Comune di Giardinello va avanti grazie al notevole lavoro di tutti gli articolisti del Comune di Giardinello, non dimenticando a quelli che lavorano all'ufficio tecnico, a quelli che lavorano all'affare generale, a quelli che lavorano all'ufficio finanziario, quindi tutti gli LSU sono importanti, però visto l'eseguità del bilancio caro sindaco bisognava fare delle scelte e non mortificare tutti gli altri LSU, bisogna dare delle priorità visto che il bilancio è quello che è, quindi anche in questo noi non condividiamo la sua scelta in merito a questo argomento per quanto riguarda gli LSU. Le ricordo che all'incirca qualche mese fa lei ha perso un pezzo della sua maggioranza, il consigliere Buonmarito che si è dichiarato indipendente, dove ha dichiarato in consiglio comunale che non condivide più il suo operato politico, quindi lei non ha più la maggioranza del Comune di Giardinello in consiglio comunale, anche se il consigliere Buonmarito ha dichiarato che valuterà volta per volta la sua approvazione in consiglio comunale, però lei non ha più la maggioranza, quindi anche un componente della sua maggioranza non condivide più questo operato e noi non lo condividiamo prima e non lo condividiamo adesso e non lo continuiamo a condividere il suo operato amministrativo nel Comune di Giardinello, perché secondo il nostro punto di vista è disastroso, perché doveva fare tante cose per la nostra comunità, manca di progettualità, di investimenti, non si parla mai, ogni giorno appendiamo dalle emettenti delle servite, nei giornali, manca di informazione e anche per questo il nostro intervento così per informare i cittadini di Giardinello, visto che la televisione entra in tutte le case, il Comune di Giardinello, la Comune di Giardinello non si sa mai niente, tutti i giorni appendiamo che nei comuni del territorio tutti i sindaci intervengono per un motivo o per un altro, per finanziamento, perché comunque i cittadini della loro città li informano di quello che succede all'interno della propria comunità, a Giardinello lei se non è stimolato da noi a venire a rispondere in qualche intervista sotto, quando noi veniamo a criticare il suo operato, la comunità non viene informata da niente, quindi bisogna, sindaco, auguriamo e ospichiamo che in un prossimo futuro ci sia un maggiore confronto sia in Consiglio Comunale e sia anche fuori, al di fuori del Consiglio Comunale, perché noi come Consiglio Comunale di gruppo di minoranza possiamo dare anche il nostro contributo, abbiamo dato tanti suggerimenti in Consiglio Comunale, l'altro giorno, tempo fa nel giornale di Sicilia abbiamo visto una sua foto assieme al suo assessore e a un consigliere comunale dove c'era scritto che la Giunta ha approvato il progetto dell'allargamento del cimitero, sindaco, ma quale progetto ha approvato la Giunta? Lei ha messo a conoscenza il Consiglio Comunale, ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale perché l'organo proposto per l'apparazione di questo progetto allargamento del cimitero è il Consiglio Comunale, siccome lei spesso si sottuisce al Consiglio Comunale come il piano regolatore, perché in teoria, le ricordo che l'organo proposto del piano regolatore il Consiglio Comunale è ad avere, a seguire l'iter del piano regolatore dovrebbe essere il Presidente del Consiglio, ma tutti sappiamo che non è così e a questo lo invito in merito al piano regolatore, ad avere un confronto pubblico e le ricordo che noi siamo seduti nei tavoli e la carica politica che ricopriamo, dobbiamo ringraziare i cittadini, i cittadini di Giardinello ci hanno onorato di rappresentarli, grazie al loro voto noi gestiamo la Costituzione della Cosa Pubblica e la Cosa Pubblica dobbiamo dare, informare i cittadini perché abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei cittadini, politica e morale e civile, quindi bisogna informare di più la gente e noi come gruppo di minoranza, perché lei anche quando viene in televisione ha dita solo il sottoscritto, perché tipo che è il sottoscritto a venire in televisione che lei ogni volta mi accusa e ora di questo ne parliamo di alcune cose che… ma quando parla il sottoscritto parla a nome del gruppo di minoranza sindaco, il gruppo di minoranza è formato di 5 persone e tutto quello che esce da questa bocca è condiviso da 5 consiglieri comunali e le garantisco da buona parte dei cittadini di Giardinello, perché come al solito anche se legittimamente i cittadini di Giardinello l'hanno rieletta sindaco, guardi che se io non lo so dove vive lei, ma veda che molti suoi elettori si lamentano dell'operato politico che lei ha portato avanti in questi due anni e mezzo e quello che ci auguriamo come gruppo di minoranza è che dal punto di vista politico lei migliori perché noi vogliamo vivere bene nella nostra comunità e non ci vuole tanto per amministrare il nostro comune, il nostro è un piccolo comune dove vive tanta gente per bene, tanta gente lavoratore che lavorano, quindi bisogna essere vicini ai cittadini, bisogna essere vicini ai cittadini con l'informazione, con una buona amministrazione, quindi il sindaco l'ha invito ad un maggiore confronto, a un maggiore confronto politico sia in consiglio comunale che all'esterno del consiglio comunale. Volevo anche intervenire in merito, lei quando viene a fare le interviste in televisione ha sempre qualcosa da dire sulla mia persona, una volta lei mi aveva consigliato in una sua intervista che io secondo lei non vedevo bene, quindi avevo problemi di vista e lei essendo medico io mi sono preoccupato e sono andato dal medico a misurarmi la vista perché dico non vorrei che mi manca avere qualche grado e allora grazie a Dio il medico mi ha assicurato che io vedo bene, vedo bene e la guarderò a vista del suo operato politico. Un'altra volta mi ha detto che io soffro di sindrome di protagonismo, soffro di sindrome di megalogomania, caro sindaco, anche questo mi sono preoccupato ma poi mi hanno assicurato che non è una malattia perché se avere la sindrome di protagonismo significa informare la cittadinanza di Giardinello su tutto quello che succede nella nostra comunità e allora io me la mantengo bene stretta questa malattia e continuerò ad andare avanti in merito a questa cosa. L'ultima intervista che lei è venuta a fare in questa emettente televisiva mi ha definito il consigliere geloso non deve fare Robin Hood, sindaco, Robin Hood, io magari quando lei mi dà da medico delle patologie mi fa preoccupare ma quando lei mi ha definito Robin Hood devo dire che la leggenda, la storia di Robin Hood un po' tutti la conosciamo, Robin Hood era una persona che